Ecco, adesso vediamo un esempio semplice in cui mettiamo in pratica le cose che abbiamo visto riguardo alla scelta del miglior modello. L'esempio è tratto da un libro di Annata di Beck Arnold, che è un ottimo libro di stima dei parametri, un classico potremmo dire, e i dati riportano la conducibilità termica, che indichiamo con K minuscolo, di alcuni campioni di ferro misurata a diverse temperature. Quindi abbiamo 10 dati, la prima riga ci dà la temperatura in gradi Fahrenheit, 100, 161, 227, 270 e così via. La seconda riga ci dà la conducibilità termica, indicata con la lettera minuscola K. Ecco, attenzione che le prime 5 misure sono state prese in condizioni sperimentali diverse rispetto alle ultime 5. In che senso condizioni sperimentali diverse? Nel senso che la varianza dell'errore di misura per gli ultimi 5 dati è 4 volte maggiore della varianza dei primi 5 dati. Da dove nasce questa differenza tra le varianze? Essa nasce dal fatto che in realtà queste misure non sono delle misure pure semplici, ma sono la media campionaria di misure ripetute. Pertanto, se le ultime 5 misure per esempio erano misure singole, mentre invece le prime 5 misure erano state effettuate in quadruplicato, voi sapete che la media campionaria ha una varianza che decresce come 1 su n e quindi se questo 41.6 non è una singola misura, ma è la media aritmetica di 4 misure fatte con lo stesso strumento di misura che ha misurato per esempio questo 42.345, avendo mediato 4 misure indipendenti, la varianza associata a questo dato è minore. Ecco, questa è un'informazione preziosa perché noi abbiamo già visto studiando la stima BLU, Best Linear Unbiased Estimator, anche nota come stima di Gauss-Markov, che questa informazione sulla diversa varianza degli errori di misura può essere incorporata nella procedura di stima dando luogo a una stima che non è più equivalente ai minimi quadrati, ma diventa una stima ai minimi quadrati pesati o minimi quadrati ponderati, qualche volta si usa anche questo termine. L'altro aspetto che vi faccio notare è che sebbene noi sappiamo che le prime 5 misure sono più precise, non conosciamo con precisione la varianza né delle prime 5 né delle seconde 5 misure, quindi siamo esattamente in quella situazione in cui la varianza del vettore V è nota a meno di una costante, quella costante che noi abbiamo sempre chiamato sigma quadro. Ecco, può essere opportuno, prima di procedere, dare un'occhiata proprio ai nostri dati sperimentali, qui li vedete in questo grafico, i dati sono gli asterischi verdi, come potete notare, al crescere della temperatura espressa in gradi Fahrenheit, la conducibilità termica di questi campioni di ferro decresce, quindi questo è quello che si vede dai dati sperimentali. Non abbiamo a disposizione una legge fisica che descriva questo fenomeno e pertanto cerchiamo di descriverlo mediante un'approccia a scatola nera, di tipo black box, quindi dobbiamo capire quale può essere un modello o una famiglia di modelli. In particolare può essere sensato, in questo caso così semplice, considerare delle famiglie di modelli polinomiali, quindi potremmo considerare dei modelli costanti, qui vedete un esempio, oppure potremmo considerare delle rette, delle parabole, delle cubiche e così via. Quindi il nostro problema sarà capire quale famiglia di modelli descriva meglio i nostri dati sperimentali. Ovviamente se ricorriamo a modelli polinomiali stiamo parlando di modelli gerarchici, quelli che con un termine forse un po' folcloristico ma efficace abbiamo chiamato modelli matrioshka. Ecco, allora torniamo ai nostri dati e l'idea è di considerare alcuni modelli alternativi. Il modello più semplice è un modello costante, quindi avremo un solo parametro, θ1, che è la costante. Un secondo modello è un modello invece lineare, in cui abbiamo una costante e un coefficiente angolare che moltiplica T, che è la temperatura. Ovviamente possiamo rendere più complicato il modello, quindi avere un modello quadratico, cubico o di quarto grado. Quindi queste sono le cinque famiglie di modelli che noi consideriamo. Come abbiamo già notato, se io considero un modello della quinta famiglia, quindi un modello che arriva fino al quarto grado, questo contiene al suo interno, come casi particolari, tutti gli altri modelli, per cui basterà mettere θ5 uguale a 0 e in questa classe di modelli ho anche tutti i possibili modelli di terzo grado. Ecco, quindi possiamo a questo punto passare alla stima dei parametri. La stima dei parametri, siccome le varianze degli errori di misura sono diverse, è una stima che viene effettuata con i minimi quadrati ponderati, ma potremmo dire in maniera del tutto equivalente, viene effettuata con lo stimatore blu. E la formula dello stimatore è questa. Rispetto alle formule che abbiamo visto noi a lezione, qui avete q, noi di solito qui mettiamo invece la matrice psi maiuscola alla meno 1, ma è solo un problema di notazione. E quali sono i vettori dei dati, delle variabili indipendenti e anche le matrici che noi utilizziamo? Allora il vettore delle y, delle uscite, è semplicemente il vettore con le misure della conducibilità termica, questo è il vettore delle variabili indipendenti che sono le temperature in corrispondenza delle quali è stata rilevata la conducibilità termica, e a partire da questi elementi possiamo costruire le nostre matrici dei regressori, le nostre matrici di sensitività. Nel caso del modello con una sola costante, la matrice di sensitività è semplicemente una colonna di uni. Se invece adottiamo la classe dei modelli lineari, a questo punto la matrice diventa una matrice 10x2, in cui abbiamo una colonna di uni e la colonna delle temperature, e qui abbiamo ovviamente due parametri. Terzo modello tipo quadratico, aggiungiamo una colonna che è quella delle temperature al quadrato. E, diciamo, in maniera progressiva, il quarto modello avremo la colonna delle temperature al cubo, nel quinto modello la colonna anche delle temperature alla quarta potenza. Ecco, interessante la matrice Q, la matrice Q è quella che noi siamo soliti chiamare Ψ alla meno 1, e, pertanto, abbiamo una matrice diagonale, in cui i primi 5 elementi valgono 1. Vi ricordo che gli ultimi 5 elementi danno la varianza di quelle misure, che è 4 volte più grande della varianza delle prime 5 misure. Dato che Q è la inversa di Ψ, 4 volte maggiore, implica che quando calcolo l'inverso nella matrice diagonale, sto invertendo tutti gli elementi sulla diagonale principale, qui troverò 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, 5 volte. Ecco, a questo punto abbiamo tutti gli ingredienti necessari per procedere alla stima dei parametri. Ecco, allora, come possiamo valutare le stime che otteniamo? Allora, se vi ricordate, avevamo visto che tra le cose che si possono guardare a scopo diagnostico, c'è il rapporto tra la deviazione standard dei parametri stimati e il valore assoluto del parametro stesso. Quindi, proprio per poter esaminare questo indicatore diagnostico, andiamo a riportare per ciascuno dei modelli il vettore dei parametri stimati e subito sotto, per ognuno dei parametri, vediamo qual è la radice quadrata della sua varianza, quindi la sua deviazione standard. Vi ricordo anche che la deviazione standard di una quantità stimata viene solitamente anche chiamata standard error, quindi praticamente stiamo guardando i parametri e il loro standard error. Allora, cominciamo col modello più semplice, che è quello di una costante. In questo caso la stima viene 3,7 per 10 alla 1, quindi 37 virgola qualcosa, lo si vede qui. Questa qui è la nostra costante che è stata stimata. La deviazione standard di questo parametro è 0,84 e quindi potete vedere che è addirittura un paio di ordini di grandezza inferiore al parametro stimato. Quindi in questo caso effettivamente non ci sono grandi problemi da questo punto di vista. Vi ricordo che il confronto tra deviazione standard e modulo del parametro stimato serve a rendersi conto se il parametro di fronte a cui ci troviamo è un parametro che non è significativamente diverso da 0. Quindi è un parametro che probabilmente è uguale a 0 e che a noi sembra diverso da 0 solo perché a causa del rumore dei dati, quando effettuiamo la stima, ci troviamo ad avere un valore che non è esattamente 0, come sarebbe se i dati fossero perfettamente puliti. Però in questo caso non ci sono problemi. Questo non significa però che questa sia una buona stima. Basta anche solo un esame visuale per rendersi conto che è una stima profondamente insoddisfacente. Cioè qui si vede che i dati in maniera molto netta hanno un profilo decrescente e invece questa stima costante non riesce a riprodurre per niente questo profilo. Quindi abbiamo bisogno di un modello più complesso. Il modello più complesso potrebbe essere una retta, quindi questa è sostanzialmente una regressione lineare però pesata. Cosa significa pesata? Significa che viene data più importanza ai dati con minore varianza. Quindi nella ricerca di questa retta alcuni dati sono più importanti, quindi si cerca di far sì che il residuo, la distanza della retta da questi dati sia più piccola rispetto al peso che si dà invece al residuo dei dati che hanno una varianza maggiore. I dati con una varianza maggiore sono come dire dati misurati con minor precisione e quindi anche se il nostro modello è distante da questi dati, questo non ci preoccupa molto, mentre invece siamo più preoccupati se il modello risulta distante da dati che noi riteniamo misurati affidabilmente. Ecco, questo è il risultato del modello. Abbiamo che l'intercetta è di 43 e questo è il coefficiente angolare. Di nuovo dobbiamo esaminare la deviazione standard dei parametri. Allora, la deviazione standard dei parametri vedete che qui avete 0,79, quindi 0,79 contro 43 è decisamente molto più piccola la deviazione standard dei parametri e in questo caso avete un 3,3 per 10 alla meno 3 che va confrontato col modulo di questo parametro che è 2,6 per 10 alla meno 2. Anche in questo caso si vede che la deviazione standard è decisamente più piccola del modulo del parametro stimato. Quindi anche questo è un modello accettabile da questo punto di vista, dal punto di vista poi dell'esame visuale effettivamente questo riesce a seguire meglio e uno potrebbe anche dirsi relativamente soddisfatto da questo modello però rimane il dubbio se non valga la pena di utilizzare un modello più complesso. Ecco, modello più complesso che potrebbe essere un modello parabolico. Questo è il risultato, effettivamente guardandolo graficamente si vede che il modello parabolico segue meglio i dati sperimentali. È anche interessante vedere che tra questi dati che sono molto vicini viene fatta una scelta a favore di questo che se si va a verificare credo che effettivamente sia uno dei dati che ha una varianza minore mentre invece questo dato ha una varianza maggiore. Quindi in qualche modo è più importante essere vicini a questo dato che non a quest'altro. Esaminiamo i nostri parametri, i nostri tre parametri del modello parabolico il primo parametro è 47 con una deviazione standard di 1 quindi decisamente molto inferiore qui abbiamo meno 7 per 10 alla meno 2, la deviazione standard è 9,8 per 10 alla meno 3 quindi è circa 1 per 10 alla meno 2 quindi ancora una volta siamo più di 7 volte inferiori in questo caso abbiamo 9,6 per 10 alla meno 5 contro 2,12 per 10 alla meno 5 qui invece siamo un po' più di 4 volte comunque entro margini di assoluta sicurezza quindi diciamo siamo abbastanza sicuri che tutti questi tre parametri servono insomma non sembra che qualcuno di questi parametri sia un parametro che è uguale a 0 e che quindi rispecchi solo l'errore di misura. Procediamo sempre allo stesso modo e possiamo adesso provare con un modello con 4 parametri quindi un polinomio di terzo grado. Ecco qui vedete il profilo è interessante come al crescere dei parametri la nostra curva diventi più flessibile quindi riesce in qualche modo a fare una specie di slalom tra i dati in modo tale da riuscire a stare vicino un po' a tutti i nostri dati sperimentali esaminiamo i parametri di nuovo quindi termine costante è 53 la deviazione standard è 2.5 quindi va bene meno 1.67 per 10 alla meno 1 e qui è 4.08 per 10 alla meno 2 anche questo va bene qui abbiamo 5.6 10 alla meno 4 contro 1.9 10 alla meno 4 comunque il modulo del parametro è più di due volte maggiore della deviazione standard vi ricordo che il fattore 2 è in qualche modo una linea di discrimine perché quando il parametro è uguale a 0 nel 95% dei casi il valore del parametro è minore o uguale a due volte la deviazione standard quindi se noi lo vediamo maggiore di due volte la deviazione standard in qualche senso ci tranquillizziamo sul fatto che il parametro sia significativamente diverso da 0 e qui siamo ancora relativamente tranquilli e anche per quest'ultimo parametro dove abbiamo 6.8 10 alla meno 7 contro 2.8 10 alla meno 7 diciamo questa regola del doppio di almeno il doppio è soddisfatta perché 6.8 che è il modulo è maggiore del doppio di 2.8 quindi anche questo potrebbe essere un modello accettabile questo altrimenti ci crea un problema nel senso che non sappiamo decidere se sia meglio questo modello o quest'altro quindi se effettivamente questo andamento un pochino più flessibile sia da preferire rispetto a questo andamento molto semplificato da ultimo proviamo il modello con 5 parametri quindi un polinomio di quarto grado questi sono i nostri parametri qui abbiamo 62 e la deviazione standard è di 10 quindi ancora non ci sono problemi meno 3.7 10 alla meno 1 contro 2 27 10 alla meno 1 qui invece come vedete il parametro è più piccolo di due volte la deviazione standard perché due volte la deviazione standard farebbe 4.5 la stessa situazione si ripropone per questo parametro qui addirittura la deviazione standard è quasi uguale al modulo del parametro e infine qui la deviazione standard è addirittura più grande del modulo del parametro quindi anche solo questo esame preliminare ci porterebbe a diffidare da questo modello quindi questo è un modello che probabilmente noi escluderemmo quasi immediatamente alla luce dell'esame dei parametri e dei loro errori standard nonostante dal punto di vista grafico abbia invece un bel aspetto quindi se io mi basassi solo sull'esame del grafico effettivamente tra tutti i modelli è quello che passa più vicino ai dati e ha un aspetto non particolarmente brutto ma d'altronde questo è qualcosa che noi ci aspettiamo perché noi sappiamo che quando facciamo ricorso a modelli gerarchici a modelli matriosca al crescere della complessità del modello la somma dei quadrati dei residui diventa sempre minore quindi è un destino inevitabile che modelli più complessi siano capaci di inseguire sempre meglio i dati fino al punto che un modello con un numero di parametri uguale al numero dei dati ha la potenzialità addirittura di interpolare i miei dati sperimentali a questo punto cerchiamo di tirare qualche somma e di procedere alla scelta del modello utilizzando le tecniche che abbiamo studiato insieme le osservazioni sono quelle che abbiamo già fatto con l'aumentare dell'ordine del modello otteniamo una migliore aderenza ai dati sperimentali nei modelli 1-3 le deviazioni standard le stime dei parametri sono accettabilmente inferiori ai moduli dei parametri stimati mentre nel modello 4 c'è un parametro la cui deviazione standard si avvicina diciamo al 50% del modulo del parametro qui siamo al 40% ma invece nel modello 5 sostanzialmente la situazione è insostenibile e quindi tendiamo a escludere questo però rimaniamo abbastanza incerti invece riguardo agli altri modelli in gioco allora a questo punto possiamo utilizzare le tecniche sia in termini di criteri soggettivi quindi il criterio soggettivo per noi per esempio è il test F che richiede di fissare un livello di significatività questa è la ragione per cui si chiama un criterio soggettivo e poi successivamente useremo anche i criteri oggettivi come FPE, Final Prediction Error, il criterio di acaiche, AIC e MDL il minimum description length allora per applicare il test F conviene costruire una tabellina in questa tabella abbiamo la prima colonna e il modello quindi modello 1, 2, 3 quindi abbiamo ordinato i nostri modelli la seconda colonna che in questo caso coincide con la prima ci fornisce il numero di parametri quindi questo è il modello con una costante quindi Q uguale a 1 questo è il modello lineare con due parametri con 3, con 4 e con 5 parametri ecco, poi per noi è anche utile avere la differenza N-Q e siccome i dati sono 10 sarà 9, 8, 7, 6, 5 ecco, un altro parametro fondamentale per usare il test della F di Fisher è la sum of squared residuals e qui sono i valori della somma dei quadrati dei residui ovviamente, all'aumentare della complessità del modello noi vediamo che i residui diventano più piccoli e qui lo vedete qui addirittura c'è un crollo da 40 si passa a 4 poi da 4,4 si passa a 1,12 e poi un'andata di crescita e così via ecco, un criterio molto, diciamo, come dire qualitativo è quello di vedere quanto si decresce all'aumentare quindi quando c'è un crollo da 40 a 4 questo sembra indicare, almeno intuitivamente che effettivamente aver aggiunto quel parametro ha portato un grosso beneficio in termini di capacità esplicativa anche da 4,4 a 1,1 che significa, diciamo, dividere per 4 la somma dei quadrati dei residui è un progresso notevole i passaggi successivi invece sono da valutare con più attenzione qui è vero che c'è un dimezzamento e qui invece, diciamo, il miglioramento sembra un pochino marginale però vorremmo avere un qualche metodo oggettivo o comunque, diciamo, statisticamente fondato per decidere altra colonna utile è quella della differenza cioè la differenza calcola proprio la differenza tra la somma dei quadrati dei residui con il modello più semplice e la somma dei quadrati dei residui con il modello immediatamente più complesso immediatamente significa che ho aggiunto un solo parametro quindi queste differenze qui c'è un enorme 35 e qui c'è un 3,305008 infine, avendo a disposizione questi dati posso calcolare la statistica F che vi ricordo ha questa espressione quindi è n-q che leggiamo qui per il delta SSR cioè quindi la differenza tra le due somme dei quadrati dei residui del modello meno complicato meno il modello più complicato diviso la somma dei quadrati dei residui del modello più complicato ecco, a questo punto facciamo i nostri calcoli e otteniamo questi valori di F come si fa a decidere se questo valore di F mi suggerisce di utilizzare il modello più semplice per esempio il modello 1 o il modello 2 quindi questo 63 in che modo può essere usato per capire se vince il modello 2 o se vince il modello 1 per prendere questa decisione ho bisogno di confrontarmi con i valori critici della F di Fischer quindi dobbiamo tornare alla tabella della F di Fischer e verificare qual è diciamo l'F.95 con un grado di libertà nel primo parametro dei gradi di libertà e n-q nel secondo quindi qui n-q in questo caso abbiamo 8 così quindi andiamo a vedere sulla F di Fischer cosa vale il valore critico lo possiamo fare tornando indietro alla nostra F di Fischer se siamo andati troppo avanti scusate non ho la F di Fischer quindi fidatevi che questi sono i valori confrontando la penultima e l'ultima colonna possiamo prendere le decisioni quindi in questo caso il valore della statistica è maggiore del valore critico e quindi vince il modello più complicato in quest'altro caso ancora una volta 20 è maggiore di 5.59 quindi vince il modello 3 sul modello 2 è una specie di gara d'eliminazione nel quarto caso abbiamo invece un quasi pareggio però 5.8 è effettivamente minore di 5.99 quindi in questo caso il modello 4 non riesce a vincere sul modello 3 è anche vero che questo è un quasi pareggio quindi il risultato è sicuramente influenzato dal livello di significatività qui abbiamo usato diciamo un alfa al 5% per questo che qui c'è F0.95 se avessimo usato un alfa diverso poteva benissimo essere che per esempio con un alfa più grande avrebbe vinto il modello più complesso da ultimo possiamo toglierci anche diciamo lo sfizio di vedere cosa succede tra modello 4 e modello 5 vediamo che qui obiettivamente 0.85 è molto più piccolo del valore critico di 6.61 quindi non c'è dubbio che il modello 5 non può vincere sul modello 4 ma questo è qualcosa che avevamo capito da soli anche guardando gli standard error ecco quindi la FD Fisher ci suggerisce di usare il modello 3 quindi il modello parabolico che effettivamente era un modello che sembrava adeguato tuttavia sembra prudente non scartare a priori nemmeno il modello 4 perché effettivamente qui ci troviamo di fronte a un quasi pareggio per completare il nostro esame andiamo a vedere cosa ci dicono i criteri oggettivi quindi in particolare applichiamo i tre criteri tre dei criteri che avevamo visto il final prediction error la CAIC information criterion e il minimum description length e questo è il risultato quindi per i vari modelli possiamo calcolare FPE, IC ed MDL vi ricordo che questi criteri vengono usati scegliendo quando avete più modelli in competizione tra di loro il modello per cui la cifra di merito è più bassa quindi nel caso di FPE qui vediamo che da 48 e 8 scendo a 6 e 7 2 e 0 1 e 33 1 e 46 quindi FPE suggerisce di usare questo modello quindi il modello 4 che è un modello con 4 parametri quindi il modello cubico quindi questo è un po' in contraddizione ma dovremmo discutere di questo con il suggerimento della F di Fischer invece IC ha dei valori numerici diversi ma come vedete il risponso rimane lo stesso dove abbiamo 3.88 scende a 1.89 scende a 0.71 scende ancora a 0.23 e poi risale a 0.28 quindi ancora una volta è il modello 4 a vincere e anche minimum description length che tendenzialmente è più parsimonioso di FPE e di IC perché abbiamo visto che FPE e IC anche quando il numero dei dati tende all'infinito hanno una probabilità finita di circa il 15% di sovrastimare l'ordine del modello mentre invece MDL avevamo sottolineato come fosse uno stimatore consistente dell'ordine del modello cioè se il numero dei dati tende all'infinito MDL converge al numero giusto di parametri in ogni caso in questo esempio con soli 10 dati è chiaro che siamo lontanissimi da poter fare considerazioni asintotiche però rimane il fatto che MDL è un criterio più parsimonioso lo si vedeva proprio dalla sua formula se vi ricordate però anche in questo caso MDL abbiamo 3.9 1.95 0.8 0.3 che è il minimo e infatti poi 0.43 risale quindi tutti e tre i modelli oggettivi ci suggeriscono di usare il modello cubico quindi siamo in una situazione in cui la F di Fisher ci dà un suggerimento e i modelli oggettivi ce ne danno un altro come dovremmo regolarci? allora prima di tutto diciamo è da tenere presente che non è sorprendente questo tipo di risponso anche perché avevamo visto che almeno asintoticamente il criterio di Akaike era come usare una F di Fisher ma con una probabilità alfa con un livello di signe effettività maggiore di quello che viene usato di solito che è quello del 5% quindi che Akaike sia più disponibile ad accettare modelli complessi rispetto alla F di Fisher è qualcosa che non dovrebbe sorprenderci e in ogni caso dobbiamo pensare che siamo in una situazione di incertezza e che quindi non ha molto senso credere che esista un modello che in maniera assoluta è il modello migliore in realtà uno dovrebbe essere consapevole che qualsiasi scelta si faccia c'è una probabilità che quello sia il modello migliore ma anche una probabilità che il modello migliore sia un altro quindi forse bisognerebbe assegnare delle probabilità ai diversi modelli di essere il modello migliore e spesso comunque diciamo non è indispensabile trovare l'unico vero indiscutibile modello ma semplicemente trovare un modello che sia congruente con i nostri scopi e qui anche un problema di sensibilità probabilmente molti diciamo molti modellisti a fronte di questa situazione apprezzerebbero il fatto che il modello parabolico ha tutti i parametri con delle deviazioni standard decisamente più piccole del modulo dei parametri stimati quindi come si dice anche in gergo i parametri hanno dei coefficienti di variazione percentuali decisamente inferiori al 50% il coefficiente di variazione è definito come la deviazione standard diviso il modulo del parametro e quindi questa proprietà di avere dei buoni coefficienti di variazione potrebbe diciamo indurre a voler preferire un modello più semplice che è il modello parabolico però chi volesse utilizzare un modello di terzo grado perché questo è quello che suggeriscono i criteri oggettivi sicuramente non sarebbe diciamo biasimabile in alcun modo possiamo quindi trarre le conclusioni di questo di questo capitolo tutti i metodi che abbiamo presentato in qualche misura si fondano su delle ipotesi statistiche l'unico metodo che non richiede ipotesi diciamo di questo genere e che quindi in qualche modo è apprezzabile perché spesso non siamo nelle condizioni di formulare delle ipotesi statistiche perché diciamo non abbiamo abbastanza conoscenze sui dati è la cross validazione quindi diciamo questo è da tenere presente nella pratica va anche detto che i criteri oggettivi FPE, IC e MDL vengono spesso usati senza preoccuparsi troppo delle ipotesi quindi vengono semplicemente usati per associare dei modelli delle cifre di merito e per poi fare delle scelte anche diciamo in maniera un po' disinvolta rispetto al fatto che le ipotesi statistiche siano rispettate esistono dei risultati asintotici sulla consistenza che ci dicono che MDL converge al modello vero all'ordine del modello vero asintoticamente quindi è uno stimatore consistente dell'ordine del modello e da questo punto di vista è meglio di FPE e di IC però va pensato va considerato che questo è un risultato solo asintotico e che effettivamente quando il numero dei dati diventa molto grande aver sovrastimato l'ordine del modello può non avere delle conseguenze pesanti perché i parametri che sono zero avranno delle stime che grazie al grande numero dei dati comunque diventeranno relativamente piccole e quindi diciamo alla fine le prestazioni del modello potrebbero essere buone anche se l'ordine non è stato azzeccato quale potrebbe essere un suggerimento pratico? potrebbe essere quello di usare più di un criterio quindi in particolare noi abbiamo visto che è utile guardare la deviazione standard dei parametri come prima diagnostica e sicuramente quella ci può dare una guida e poi in generale usare più di un criterio per individuare per escludere alcuni modelli e per individuare un sotto insieme che invece sia diciamo comunque dia delle prestazioni soddisfacenti all'interno delle quali si faranno delle scelte che possono riflettere anche l'uso che si vuole fare del modello o la sensibilità del modellista infatti nella pratica diciamo il più delle volte non è essenziale trovare il miglior modello in assoluto ammesso che questa espressione voglia dire qualcosa ma trovare un modello adeguato alle necessità del caso ecco questo è